già ragazzi eccomi qui con un nuovo video questa volta anche con un nuovo taglio non fate caso alla frangetta ma perché era leggermente sbagliato o non ha per niente capito quello che gli ho chiesto ma comunque vabbè come avrete capito dal titolo è un nuovo video tutorial e sui colori del giallo e del grigio con un tocco un po più eccentrico sulle labbra se il makeup vi interessa seguite il tutorial allora parto applicando una bb cream su tutto il viso in questo caso vado ad utilizzare questa della mua e la mia tonalità è la medium ed è la shade 2 ed è perfetta per appunto il mio tono di pelle la stendo con lo stipple brush della herf questo due fibre e io ce l'ho già sul dorsio della mano quindi vado direttamente a stenderla come correttore utilizzo questo della kiko che è il 3d lifting anch'esso l'ho già applicato sul mio dorso della mano e lo vado a stendere con il polpastrello in questo caso è la tonalità 0 2 natural come primer vado ad utilizzare la low stage della essence e lo stendo su tutta la palpebra mobile e fissa adesso possiamo partire con il trucco occhi per realizzare questo makeup vado ad utilizzare questa palettina che è la going for gold della mua con un pennellino a lingua di gatto come questo vado a prelevare questo colore qui in alto che è lo shade 1 e lo applico sotto l'arcata sopraccigliare e sulla palpebra mobile sempre da questa palettina questa volta vado a prendere il dorato in alto che è lo shade 5 lo vado ad applicare alla fine della dell'occhio a questo punto con un pennellino angolato vado a prendere sempre dalla palettina 9 da prendere sempre dalla palettina mua lo shade 10 che è questo ombretto grigio in basso al dorato che è sotto al dorato che abbiamo utilizzato e lo vado ad applicare nella parte finale dell'occhio tirandolo verso la parte interna con il blending di prima sfumo con lo stesso grigio vado ad applicare nella parte finale dell'occhio sulla rima infracigliare inferiore vado a dare più intensità al grigio applicato come mascara vado ad applicare sempre il mio aqua smokey lash della make up forever con il mio solito kit della essence vado a definire le mie sopracciglia a questo punto vado ad utilizzare la mia cifra in questo caso è la fix matte della essence e la vado a stendere con lo stesso pennello da fondo con lo stesso pennello vado a prendere il mio blush in questo caso io utilizzerò il creme della neve make up definisco il mio contorno labbra con questa matita della mua che è la brooding plump e li vado anche a riempire e vado ad applicarci lo shade 3 della mua e il make up è terminato spero che vi sia piaciuto un bacio e al prossimo video ciao ragazze ciao